quando siamo all'altezza delle gradinate lì delle comunali io do la chiusura aiutatemi a partire eh! sui due colpi la barca deve proprio partire e cambiare rotta spingendo con le gambe se no in finale nel giro si spinge con le gambe e ora sempre lunga, pensiamo sempre alla lunghezza si, cioè va bene perché tanto voi siete più forti a posto, attenzione, via! a presto! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti